A Gazzaniga l'Associazione Fior di Loto ha una nuova sede dove ci troviamo in questo momento. Cominciamo col dire di cosa si occupa la vostra associazione. Allora l'Associazione Fior di Loto si occupa di dare un sostegno e un'accoglienza alle donne che hanno subito violenza e donne maltrattate. Nasce nel 2008 ed è ubicata qui nel paese di Gazzaniga ma fa riferimento diciamo a tutta la valle, la media, l'alta e anche la Val di Scalve, comprensiva proprio di 42 comuni. L'obiettivo dell'Associazione è quello di dare un'accoglienza, come dicevo, un sostegno alle donne maltrattate e altro obiettivo è quello di sensibilizzare il territorio attraverso incontri con la popolazione su questo tema. Quante sono le persone che compongono l'Associazione e chi sono le operatrici? Allora le donne che compongono l'Associazione in totale sono 13 che si avvalgono anche dalla consulenza di professioniste esterne per cui abbiamo sei avvocate e al momento due psicologhe. Le operatrici si occupano di accogliere le donne e seguirle con dei colloqui e valutano poi con la donna la possibilità o meno di fare degli invii o all'avvocata o alla psicologa secondo i bisogni della donna. Parliamo anche di numeri. Quante sono in media le donne che si rivolgono a voi in un anno? Per quest'anno possiamo dire che la cifra si aggira sulle 30 donne. Possiamo dire che comunque in questi anni la cifra è sempre più aumentata e penso che questo sia legato anche al fatto che piano piano c'è più sensibilità verso il problema e cominciano a conoscerci e quindi il fior di lotto possiamo dire che è diventato un po' un punto di riferimento nella valle. Mi tengo a sottolineare che la caratteristica appunto del servizio che offriamo è quella dell'anonimato, della riservatezza e anche della gratuità. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne avete pensato ad una serie di iniziative. Che cosa c'è in programma? Sì, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne che di solito ricorre il 25 di novembre l'Associazione Fior di Loto organizza una serie di eventi il venerdì 21, il sabato 22 e la domenica 23. Il venerdì 21 sera ci sarà uno spettacolo teatrale, il corpo sottile il sabato ci sarà un open day e quindi aspettiamo tutte le donne o gli uomini che vogliono farci visita e conoscere quello che fa l'Associazione Fior di Loto saremo aperti dal mattino alle 10 fino al pomeriggio alle 16 dopodiché alle 16 avremo l'inaugurazione di questa nuova sede e anche qui aspettiamo tutte le persone che vogliono venire a fare visita al centro. La domenica idem saremo aperti dalle 10 del mattino alle 17 di sera e ci sarà nel pomeriggio una tavola rotonda o comunque un momento di condivisione sulle tematiche della violenza. Se volete maggiori informazioni potete collegarvi al sito internet www.fiordiloto.it